Corsa e visita cardiologica nel villaggio del Cuore a Bari. E' questa in sintesi Running Art, la manifestazione podistica che mira la prevenzione cardiologica. Gli organizzatori per l'edizione 2020 puntano a superare la soglia dei 2000 partecipanti dello scorso anno. La partenza della corsa competitiva è prevista da Piazza del Ferrarese, un percorso di 10 chilometri che si snoda sul lungomare sud della città. Previsto anche un percorso non competitivo di 5 chilometri nello stesso tratto del lungomare. Abbinata alla corsa una passeggiata di 3,5 chilometri nei vicoli di Barivecchia. Per l'occasione apre i battenti dal 15 febbraio anche il villaggio del Cuore. Quattro postazioni dedicate alla prevenzione, elettrocardiogrammi gratuiti e controllo della glicemia. Ad ogni persona sarà rilasciata una card per accedere al proprio elettrocardiogramma e ai dati clinici. Ci si collega la banca del cuore e sarà possibile fare un confronto con l'esame precedente. Ma la quarta edizione offre un'altra novità. Nelle farmacie aderenti a Bari e provincia, dal 10 al 23 febbraio, gli iscritti potranno effettuare un elettrocardiogramma gratuito.